Ripartono i teatri della Fondazione Teatro della Toscana. Per primo il Teatro Era di Pontedera, poi la Pergola di Firenze con Stefano Accorsi, ingiocando con Orlando a solo. Il Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci poi porterà in scena il 15 e 16 maggio lo spettacolo interno e esterno da Morris Materlank. Il programma è stato presentato a Firenze con Stefano Accorsi, direttore artistico della Fondazione Teatro della Toscana, il presidente della Fondazione Tommaso Sacchi, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. E finalmente i teatri alzano il sipario e ripartono dal vivo dopo le chiusure imposte dalle misure per contenere l'epidemia di Covid. Il teatro, questo luogo è fatto per lo spettacolo dal vivo, è la forma più antica di trasmissione, perché già una favola è teatro. E quindi è fondamentale farlo dal vivo. 430 giorni di chiusura vuol dire 14 mesi e 5 giorni che sono stati durissimi per la categoria dello spettacolo dal vivo. È stata una delle categorie più toccate in assoluto, quindi c'è stata molta resistenza, molta resilienza. Purtroppo qualcuno ha anche dovuto cambiare il settore, però noi partiremo, ripartiremo con tantissima energia, abbiamo tanti progetti. Progetti che riguardano soprattutto anche i giovani. Abbiamo i ragazzi dell'Oltrarno di Pierfrancesco Favino, i nuovi dell'Orazio Costa e della scuola Orazio Costa della Pergola, i nuovi che si sono costituiti in compagnia, i ragazzi della Silvio D'Amico. Insomma, c'è veramente un grande investimento in futuro. Gli spettacoli in programma al Teatro della Pergola spazzeranno dalla mafia di Luigi Sturzo, adattato dal regista Piero Maccarinelli al Pinocchio di Pierpaolo Pacini fino alla donna volubile di Goldoni.